Il Presidente mi ha chiamato pomeriggio e devo dire che ho accolto questa telefonata con grande entusiasmo perché, come già ho avuto modo di dire, è una telefonata che aspettavo da tempo. Sassera è una piazza alla quale ho sempre guardato con grande ammirazione e quindi ricevere questa telefonata dal Presidente è stata molto bello e ovviamente è stata molto gradita. No, devo dire che avevo buone sensazioni comunque, dispiaciuto per le sconfitte perché entrambe veramente allo scadere sia con Napoli che con Bologna, però devo dire che già nella gara di Bologna si vedeva qualcosa di più. Io ero arrivato giovedì con Napoli e abbiamo giocato dopo tre giorni, invece avendo avuto poi dieci giorni per preparare quella di Bologna, la squadra aveva già fatto progressi, abbiamo fatto una partita molto bella a Bologna quindi diciamo che la sconfitta fu molto amara perché abbiamo avuto la possibilità di vincerla con un ultimo tiro, però i segnali erano molto confortanti, quindi da lì in avanti credo che la squadra abbia cambiato passo, abbia cominciato a macinare e a far vedere che si poteva fare qualcosa di buono. Sì, devo dire che ovviamente nel lavoro ognuno cerca di portare le cose in cui crede, penso che la difesa sia un punto fondamentale anche se la squadra non aveva proprio le stigmate della difesa sulla pelle, però era diciamo doveroso che tutti provassero a dare il massimo in quella direzione. Poi c'è chi è più o meno bravo, chi è più portato, però l'importante è che la squadra avesse comunque un'idea che ci voleva sacrificio, che ci voleva dedizione, che ci voleva partecipazione e questa è la cosa che ti può dare la difesa. Se tu comunque provi a essere consistente in difesa, è più facile poi cercare di costruire un gruppo e quindi di condividere poi degli obiettivi. Alla fine bisogna anche cercare di portare i giocatori a coprire quelle cose di cui la squadra ha bisogno. Non era una squadra di grandissimi rimbalzisti, però molte volte il rimbalzo è solamente la capacità di andarci e di volerlo prendere, non è tanto questione di tecnica. Per cui su questa cosa qua ho chiesto una particolare attenzione da alcuni dei giocatori e devo dire che Benji ha risposto molto bene, è un eccellente giocatore, un'eccellente persona, penso che la Dinamo abbia fatto un grosso affare per la sua riconferma per i prossimi tre anni. Devo dire che la squadra aveva preso una buona direzione, eravamo in ritmo, eravamo in condizione fisica e tecnica e devo dire che però è venuta fuori l'opportunità di Miro Bilan, business as business come si dice in questi casi qua, abbiamo pensato che fosse un'aggiunta importante, così è stata. Abbiamo un po' sofferto nell'inizio perché è cambiata un po' ovviamente il modo di giocare, il modo di stare in campo, è cambiata un po' l'attacco, è cambiata anche la difesa, per cui c'è stato un momento di assestamento, però dopo i primi momenti devo dire che la squadra ha trovato di nuovo la strada per giocare bene, abbiamo fatto un finale di stagione e direi importante. Credo che la gara di Milano, al di là dei meriti di Milano, per carità che non si discutono, però credo che qualche fischio effettivamente abbia un po' indirizzato la partita in una direzione particolare, è stata una buona gara, è venuta fuori ovviamente il talento e l'esperienza di Milano, la capacità di giocare partite di questo tipo, esperienza che ti fa in Eurolega, però devo dire che la squadra ha fatto una buona gara, ripeto qualche fischio forse mi ha fatto un po' stoggere il naso, il motivo per cui a fine partita in sala stampa non ho detto nulla, se non salutato e ringraziato e me ne sono andato. Il pubblico che gratifica la squadra e questa è stata sicuramente una cosa molto bella, perché che la squadra sia così gratificata dall'applauso del pubblico è molto importante, ringrazio il pubblico perché è stato sempre con me e con la squadra generoso, ci ha sostenuto in momenti difficili, ci ha incoraggiato ultimamente quando le cose andavano meglio, però devo dire che il pubblico è stato veramente importante, lo ringrazio perché giocare in casa a Sassari è veramente molto bello perché il pubblico si sente veramente. È stato un percorso direi buono con le difficoltà normali che si possono incontrare in una stagione, in una squadra che è stata un po' rivisitata durante i mesi, però devo dire che nel complesso le scelte sono state fatte con serenità, secondo coscienza, in maniera ponderata, in questo devo dire che Federico è sempre molto presente in queste decisioni e devo dire che è un contributo estremamente valido perché Federico è anche allenatore oltre che general manager e quindi riesce a capire molto bene quelle che sono le dinamiche che può avere nella testa un allenatore e quindi ragionare con lui e parlare con lui è sempre molto utile per cercare di trovare la via migliore. Sì, devo dire che mi è dispiaciuto per me o questo è normale che sia così perché abbiamo condiviso momenti molto belli con la nazionale, però nel momento in cui è stato incaricato Gianmarco, ho fatto un passo indietro, mi avevano chiesto una disponibilità, ma preferite io dedicarmi completamente alla Dinamo, è una stagione importante la prossima nella quale ovviamente vogliamo cercare di partire bene perché c'è Supercoppa, perché c'è la Coppa europea che inizia presto, per cui bisogna arrivare veramente carichi e pronti, per cui dobbiamo essere in grado di arrivare pronti all'inizio, per cui ho scelto di fare un passo indietro indipendentemente dalle scelte di Gianmarco, così anche Gianmarco è stato libero di scegliere i suoi assistenti. Io ho preferito dedicarmi alla Dinamo e con Federico ci sarà questa collaborazione che abbiamo già iniziato da diversi giorni a parlare di giocatori, ci sentiamo 20 volte al giorno per scambiare opinioni, per scambiare giudizi, per io ascoltare i suoi consigli perché ovviamente la storia dimostra che ha portato a sassi di tanti giocatori e quindi buoni, per cui sono molto tranquillo nel poter dire che sono veramente fortunato di avere Federico al mio fianco perché è sicuramente molto esperto, è capace, quindi devo dire che la sua collaborazione nel costruire la squadra sarà molto importante. Vorena Dinamo, come nella parte finale di stagione, è votata anche a sacrificio nel capire quali sono le priorità all'interno di una squadra, di un gruppo, il condividere obiettivi che ti porta ad avere ovviamente una maggiore capacità di mettere davanti la squadra e non se stessi e mi piacerebbe ovviamente che la squadra fosse come quella di quest'anno, in cui c'era, ripeto, spirito di sacrificio ma anche desiderio di passarsi la palla. In chiusura vorrei fare un ringraziamento al mio staff che è stato veramente molto presente, sono stati tutti molto bravi, Dabaio, a Gerry, Boccolini, a Antonio, tutti quanti molto partecipativi, passiamo il termine, devo dire molto presenti, devo ringraziare tutto lo staff medico che è stato eccezionale perché non abbiamo avuto fortunatamente grandissimi problemi, però hanno sempre aggredito le varie situazioni con tempestività e dando la possibilità a me di avere quasi sempre la squadra completo, in questo ovviamente anche Francesco Parodo, Dottor Faiz, Manuto, tutti quanti, adesso non posso nominare tutti perché è un nutrito gruppo di professionisti serissimi che ringrazio. Tutto lo staff che ha contribuito come te e i tuoi colleghi nella comunicazione, quando si raggiunge il risultato c'è dietro tanto lavoro nascosto e veramente voglio ringraziare tutti coloro che ho nominato prima e anche qualcuno che dimentico, lo stesso Lele che ci dà quotidianamente un suo apporto, però quando c'è un risultato positivo dietro c'è tanto lavoro, i giocatori sono quelli che vengono visti sul campo ma dietro ci sono tante persone che fanno sacrifici e che con tanta passione mandano avanti questa Dinamo, devo dire, l'ho già detto ma è una cosa che sento di ripetere, la passione è veramente il motore che manda avanti questa società.